Ciao Oggi siamo felicissimi perché sul set abbiamo veramente una grande star Flying Wine E' una grandissima attrice Grazie mille Questo è il momento del catetere Viene inserito questo tubicino Che finirà lì dove voi avete capito Siamo già nel film adesso ragazzi E' bella gioventù eh E' bella gioventù eh Bene Buono Comune di Vergate Ho detto anche comune di Mazzate Ragazzi è incredibile Perché c'è sempre un fil rouge che lega tutto Al comune di Vergate che cosa prendo io? Una vergata mi tireranno un cazzotto tra pochissimo No ragazzi no vedi che Siamo al comune di Vergate Qui prenderanno una mazzata E c'è la botta di Mattarella Mattarella più Vergate più mazzata E' incredibile ragazzi Volevo introdurre in questo nuovo parlamento Marco Predolin Marco Balestri E Columbo L'onorevole Columbo Permessi Bravo Permessi Ci andiamo a sposare Ci andiamo a sposare Ci andiamo a sposare Ci andiamo a sposare Senti Ehm Da molto bene Buono Allora la giornata è andata molto bene A parte il caldo c'è un caldo veramente pazzesco Tra pochi minuti c'è la scena delle scene Mi tireranno un cazzotto So che molti di voi saranno molto felici di tutto questo Però lo vedrete poi al cinema Quindi mi raccomando Andate al cinema eh Ci vediamo Guardate che lo so se non ci andate eh Se andate a vedere questo film mi porta anche un sacco di fortuna Ciao Ciao Sapevate che Il Re Leone è il primo film Disney nel quale si fanno le... Le... Quelle cose che fanno sempre ridere Avete capito? Si proprio così beh Cliccate qui accanto per altre curiosità, notizie e ovviamente trailer Ma voi vi ricordate che era il personaggio che le faceva? Fatemi sapere nei commenti sotto Ciao